come dicevo prima questa è l'ultima lezione dell'anno 5780 perché ormai domani sera Be'ezrat Hashem e Rosh Hashanah entriamo in un anno nuovo e noi sappiamo che l'Alaqah dice tutto va secondo la fine vale a dire se stasera facciamo una bella lezione e ci darà una carica interiore e impareremo cose nuove per affrontare l'anno nuovo allora sicuramente tutte le lezioni dell'anno prendono diciamo impronta dall'ultima cosa tutto va secondo la fine puoi cominciare bene un qualcosa la vita il matrimonio un rapporto quello che è lo puoi cominciare bene ma se poi alla fine sbagli e devi allora non è concluso niente ma al contrario puoi cominciare male una cosa un indirizzo sbagliato un comportamento sbagliato e così via però se riesci a in mezzo alla strada prima della fine della strada a metterti a posto allora tutto va secondo la fine questo ci insegna che non dobbiamo mai disperarci non dobbiamo mai perdere l'illusione che la nostra vita è finita perché tutto va secondo la fine se alla fine noi riusciamo a indirizzarla a qualcosa di buono e di positivo allora anche in modo retrattivo tutto il resto che abbiamo fatto di sbagliato si può tramutare in un'esperienza positiva e perciò appunto quest'ultima lezione cerchiamo di elevare tutte le lezioni precedenti e di darci veramente una carica e di cominciare Bezrat Hashem l'anno nuovo con tanta gioia con tanta simcha con tanta stima interiore per poter andare avanti Bezrat Hashem nella nostra vita in un modo più decoroso possibile questa sera non ho visto il suo nome perché forse era stato molto scritto velocemente questa sera la lezione la dedica una persona molto molto speciale la dedica la signora René Guetta la signora René Guetta che ultimamente ci sta seguendo da quando c'era questo covid che c'era il lockdown e noi abbiamo aumentato le nostre lezioni praticamente tutte le lezioni che facevamo di persona le abbiamo trasferite su zoom o sulle dirette varie la signora René che si trova a Pisa ha cominciato a seguire e ci siamo conosciuti virtualmente e lei non perde quasi una lezione è una signora di età avanzata ma è dolcissima, è carinissima ha molto entusiasmo ebraico e lei questa sera ha voluto dedicare questa lezione a due persone a lei molto care che sono mancate proprio tutte e due quest'anno uno era il figlio purtroppo e l'altro poco dopo era il marito perciò questa lezione la dedichiamo a Mordechai Schinasi e al figlio Yaakov Schinasi mancati quest'anno che possa la loro anima avere veramente una salita che la loro anima possa gioire e brillare lì dove si trova e possano loro essere vicini a René che è veramente una signora molto molto carina e dolce e loro possono continuare a stare vicino a lei a proteggerla lì da dove loro si trovano come di consueto cominciamo la serata con la Zedaka mettiamo due monete in Zedaka chi vuole anche da casa potrà fare la stessa cosa chiediamo ogni giorno per favore di mettere delle monete in Zedaka che porta tanta tanta benedizione a tutti quanti prima di cominciare la lezione di Rosh Hashanah vorrei raccontare una storia un aneddoto più che altro che a me piace raccontare ogni anno non so se l'anno scorso l'ho raccontata se non l'ho raccontata chiedo scusa la racconto quest'anno è una storia che deve essere veramente ripetuta ogni anno per darci l'idea di cosa è veramente la festa di Rosh Hashanah e la storia, questa parabola fa così che c'era questo re questa parabola si usa a raccontarla la mattina del Rosh Hashanah prima di suonare lo shofar per far capire cos'è in realtà l'idea profonda del suono dello shofar allora l'aneddoto fa così c'era questo re di questo paese che aveva un figlio l'erede al trono, il principe, il futuro re e lui voleva dare il meglio dell'educazione a suo figlio e decide che nel suo paese ormai era un piccolo paese magari non era ancora molto avanzato decide di mandare il figlio in un paese dove potrà studiare di più, migliorare e così via e dà il figlio tutto quello che ha bisogno di dà vestiti, di dà soldi lo manda in una scuola dice vai figlio in questo paese andrai e imparerai tante nuove cose e poi quando tornerai potrai essere il futuro re da tutte le belle cose che impari in questo paese il ragazzo va era ancora giovane non era molto maturo e cosa fa anziché andare nella migliore università che papà gli aveva pagato va, incontra persone sbagliate fa amicizie conosce, esce dal suo habitat perciò va in un posto nuovo conosce persone nuove usi costumi nuovi e sapete un ragazzino facilmente può perdere diciamo la bussola può perdere la direzione e lui anche si fa trascinare si fa prendere da ragazzi dalle ragazze dalle amicizie da questo e quest'altro e non soltanto che lui non sta usando il suo tempo per migliorare come suo pa voleva ma al contrario pian piano senza neanche accorgersene dimentica tutta la sua educazione il suo modo di vestire di essere totalmente dimentica tutto quello che era il suo passato e diventa quasi un'ostrazione va in giro con vestiti strappati proprio in un modo non decoroso sicuramente non da figlio del re a un certo punto lui si accorge della situazione che si è creato da solo capisce lo sbaglio che ha fatto e rimane senza soldi ha sperperato tutti i soldi che papà gli ha dato e senza avere scelta torna indietro e torna da suo papà e va a Palazzo Reale fa per entrare in casa sua le guardie lo fermano non lo riconoscono perché lui era così cambiato nel frattempo era tutto stracciato non parlava neanche più la lingua del posto quando lui parlava loro non lo capivano e le guardie cercavano di allontanare questo ragazzo al che il figlio capisce la situazione gli comincia alza la testa verso la finestra del papà dice papà papà sono tornato sono io sono tuo figlio è vero ho sbagliato magari ho tradito le tue aspettative però ti prego papà perdonami io sono qua sono tornato dammi ancora una possibilità di tornare indietro il papà sente la voce del figlio che piange che strilla guarda la finestra non lo riconosce neanche lui ma riconosce la sua voce scende giù dalle scale va apre il palazzo reale apre la porta va dal figlio lo abbraccia lo bacia e tutti e due piangono uno sull'altro in questo momento così veramente di malinconia e il papà dice figlio mio non ti preoccupare ho visto che tu stai piangendo di un modo sincero ho visto che hai capito gli sbagli che hai fatto non ti preoccupare adesso sei con me sei tornato a casa non ti preoccupare ti darò un'altra sciaccia allora questa storia ci rappresenta la storia di tutti noi quando noi nasciamo all'inizio eravamo anima che quest'anima era in casa di Hashem negli alti cieli e Hashem un giorno ha deciso di mandare quest'anima giù nel nostro corpo nel mondo fisico e dice un'anima per poter migliorare non può rimanere in cielo perché in cielo non ci sono mitzvot non c'è modo di mettere tefilin non c'è modo dici nelle candele sciabati e così via quest'anima dovrà scendere giù nel corpo fisico per poter fare tutte le mitzvot che noi facciamo perciò è come qua la storia del re che manda il figlio lontano però per poter ricrescere e tornare più in alto possibile per dare possibilità all'anima di poter fare le mitzvot perciò Hashem ci manda giù e ci dice mi raccomando quando vai giù fai le mitzvot ma noi come questo principe che lo facciamo arriviamo giù nella terra e conosciamo le persone sbagliate e ci facciamo attirare da amicizie sbagliate da cose sbagliate e dimentichiamo il linguaggio qual è il linguaggio nostro? Dimentichiamo la preghiera fino a che quando arriva Rosh Hashanah vogliamo tornare da Hashem al palazzo reale e ci accorgiamo che in realtà quest'anno ci siamo comportati magari non come dovevamo o non come potevamo torniamo da Hashem e quando suoniamo lo shofar cosa rappresenta questo suono? ci ricorda il pianto di un bambino se fate in mente il suono tu 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 e con un bambino che piange ci sono tre tipi di suoni c'è il suono liscio lungo poi c'è il suono spezzettato in tre e poi c'è il suono spezzettato in nove volte e ognuno è un livello di pianto ci sono certe persone che piangono all'inizio piangono in un modo lungo poi cominciano a singhiozzare poi singhiozzare diventa sempre più forte ed è questo la nostra anima che quando arriviamo il giorno di Rosh Hashanah davanti a Dio la nostra anima piange e quando sentiamo il suono lo shofar ci ricorda proprio questo bambino che piange al papà e noi tutti non è importante che età abbiamo siamo come un bambino che piangiamo davanti al nostro creatore e diciamo papà hai ragione abbiamo sbagliato quest'anno abbiamo fatto tanti sbagli però adesso siamo qua apri la porta abbracciaci e dacci ancora una possibilità per poter avere un anno migliore ed è questo quello che noi dobbiamo pensare quando sogniamo lo shofar quando arriva il giorno di Rosh Hashanah è questo il nostro pensiero che anche se abbiamo sbagliato Dio è lì per perdonarci Dio è lì per darci ancora un'altra chance per migliorare la nostra sorte la nostra vita e ho voluto proprio cominciare con questa storia perché stasera tutto quello che parleremo è inerente con quello che abbiamo spiegato adesso adesso da una parte noi sappiamo che Rosh Hashanah è un giorno gioioso è un giorno di festa è l'anno nuovo cominciamo tutte le brakhot che facciamo i cibi di buon auspicio che mangiamo la sera e facciamo il kiddush praticamente è un giorno di festa ed è un giorno che rappresenta appunto l'inizio di un qualcosa di nuovo abbiamo spiegato che a Rosh Hashanah viene nel mondo una luce nuova che l'anno prima non c'era una luce che mai è stata prima d'ora una luce di Dio che si rivela in questo mondo che tiene vivo il mondo e che aumenta la benedizione del mondo ogni anno si dice che questa luce diventa più forte più intensa questa benedizione di Dio ogni anno che arriva è più forte della benedizione dell'anno precedente ok allora qua vediamo tanti motivi per dire che questo Rosh Hashanah sono due giorni di gioia però d'altra parte sono anche chiamati i giorni del timore perché i giorni del timore perché è anche il giorno del giudizio perciò è un giorno gioioso ma è anche un giorno che tutti noi passiamo davanti al trono di Hashem e Hashem giudica ognuno di noi secondo quello che abbiamo fatto durante l'anno passato l'abbiamo spiegato nelle varie lezioni precedenti degli anni scorsi e così via allora qua l'idea del timore vengono chiamati i giorni del timore Yamim Norahim Rosh Hashanah Kippur perché vengono chiamati Yamim Norahim in realtà non è come noi pensiamo giorni del timore giorni della paura noi abbiamo un concetto molto diverso tra l'altro sbagliato di quello che è il timore per Hashem noi cosa pensiamo? noi abbiamo paura che Hashem ci punisca quando noi abbiamo nella nostra mente deve avere timore di Dio paura è una parola sbagliata è il timore la parola più giusta perché noi abbiamo due modi per arrivare a Dio c'è l'amore e il timore per quanto amiamo Dio dobbiamo anche avere timore di Dio per esempio come un bambino verso i genitori c'è un rapporto di amore ma se manca il timore non va bene perché? perché poi il bimbo prende troppa confidenza si sente troppo vicino ai genitori non rispetta i genitori nel modo dovuto perché se c'è troppo amore c'è troppa avvicinanza perciò Dio ha detto che ci vogliono amore che è importantissimo ma ci deve essere anche il timore che ognuno sappia le sue distanze dove stare e non superare determinate situazioni adesso noi nella nostra testa cos'è timore per Dio? non faccio un peccato perché ho timore ho paura che Dio mi punisca allora in realtà questo non si chiama servire Dio uno che ha paura di fare peccati perché pensa di servire Dio in realtà lui sta servendo se stesso se io ho paura di fare un peccato perché ho paura che Dio mi punirà non lo faccio per lui lo faccio per me per la mia pelle ok? è vero se questo all'inizio è un modo di come non fare delle trasgressioni va bene all'inizio può anche benvenga che poi una persona capirà cos'è la strada giusta ma non è assolutamente questo il modo che la Torah ci insegna di cosa vuol dire avere timore verso Hashem ecco noi stasera vogliamo imparare trovare un rapporto più profondo con Hashem e non soltanto un rapporto meccanico faccio la mitzvah perché Dio sia contento non faccio un peccato perché Dio non mi punisca non è questo certo a un livello basico forse possiamo anche iniziare a avere un approccio con Dio in questo modo ma questo è un modo molto infantile i bambini hanno paura del timore hanno paura di essere castigati o che non è questo il modo come Dio ci ha insegnati o comunque come stasera impareremo che non è questo l'approccio che la Torah e la Chassidù ci insegna di come avere timore di Hashem perciò noi vogliamo trovare stasera un rapporto un modo come avere un rapporto intimo con Hashem e che questo rapporto sia appunto durativo nella storia timore di Hashem significa in realtà non come abbiamo detto paura di essere puniti ma al contrario paura di rovinare il rapporto che io ho con Hashem questo è il vero timore che la Torah ci insegna ho paura di fare un qualcosa che possa rovinare il bel rapporto che ho con Dio e facciamo un esempio prendiamo marito e moglie prendiamo una coppia che sono veramente felicemente sposati che veramente loro hanno un amore intenso hanno complicità rispetto uno per l'altro si capiscono sono lì l'uno per l'altro proprio quello che tutti noi vorremmo avere questo amore così fantastico e magico allora che mai penserebbe quando ha un amore così che può essere con la moglie che può essere con un amico non è importante chi quando hai un rapporto con qualcuno che abbiamo veramente un feeling speciale con questa persona noi non faremo mai un qualcosa per rovinare questo rapporto quale uomo quale uomo potrebbe mai pensare di tradire la propria moglie in qualsiasi modo tradire è una parola molto vaga quale uomo potrebbe pensare di tradire la propria moglie o viceversa quando veramente tra loro c'è questo rapporto così magico quale uomo ma neanche lui pensa ma non faccio nessuna cosa brutta verso mia moglie perché forse mi scoprirà questo è un livello bassissimo se c'è amore se c'è amore nessuno va a pensare di fare un qualcosa di negativo verso il compagno o la compagna ma la paura che c'è in realtà tra due persone che si amano è non voglio fare niente al di là che se lei mi scopre non mi scopre se viene a sapere no ma chi si importa di quello io non voglio neanche fare una minima cosa per rovinare il mio rapporto con lei che lo sa più o meno è un dettaglio secondario io amo mia moglie io amo il mio compagno la mia amica il mio datore di lavoro quello che sia mio figlio non voglio fare niente che minimamente possa rovinare questo rapporto di fiducia e di amore di rispetto che c'è tra di noi perciò questo è quello che la Torah ci insegna di quello che è veramente timore per Hashem timore per Hashem non vuol dire ho paura che Dio mi sgrida ho paura che Dio mi castiga che mi mandi un anno di difficoltà non è questo timore non è questa paura questa è una cosa infantile il vero timore di una persona per Dio che cos'è guai se io posso fare minimamente un qualcosa che Dio ci possa rimanere male di me e rovinare il nostro rapporto in realtà visto che si parla appunto di timore il timore che cos'è è la paura che a volte una persona può provare sapete perché? quando si sente troppo amato ci sono certe persone che hanno paura di essere troppo amate perché? perché capiscono che l'amore è una cosa è una grande responsabilità essere amati perché quando sei amato devi anche dare indietro il tuo amore non soltanto ricevere ma essere di pari passo e molte volte persone che hanno avuto un'infanzia difficile magari non hanno sentito l'amore in casa magari ognuno con la sua storia non sanno cos'è il vero valore dell'amore quando a un certo punto si sentono troppo amati cosa succede? cominciano ad avere paura ma è una situazione che non ho mai conosciuto dei sentimenti che non ho mai provato una cosa che io non ho mai toccato con mano di essere amato così tanto e allora a volte quando siamo troppo amati cosa succede? ci fa paura ecco questo è quel vero amore che Hashem ha per noi Hashem ci ama così tanto che a volte noi ci spaventiamo di quanto amore in realtà Hashem sta dando a noi perciò abbiamo paura di non essere all'altezza di ricambiare tutto quello che Hashem ci sta dando perciò non è appunto essere puniti ma è qualcosa di molto più profondo ed è questo quello che noi dobbiamo fare in questi giorni del timore questi giorni di Rosh Hashanah e poi più avanti di Kippur noi dobbiamo capire che Hashem non ci vuole punire che Hashem non è lì a controllarci bensì noi dobbiamo capire che dobbiamo fare in modo in questi giorni così speciali di aprire noi stessi di aprire i nostri cuori e di sentire o di cercare di sentire quanto Hashem ci ama perché se noi siamo chiusi in noi stessi e il nostro cuore è un cuore di pietra non potremo mai capire quanto il nostro compagno ci ama quanto Dio ci ama ecco il messaggio uno dei messaggi che Rosh Hashanah ci dà è questo apriti apri il tuo cuore apri la tua mente rilassati e cerca di capire quanto Hashem ti ama e quando in percentuale minima riuscirai a capire quanto Hashem ti ama non devi spaventarti devi avere il coraggio di essere all'altezza dell'amore che Dio ti sta dimostrando perciò il timore è un timore che diciamo è scusabile perché Hashem mi ama così tanto io chi sono io davanti a Dio per quanto lui mi darà io non darò mai indietro quanto lui sta dando a me perciò noi ci sentiamo in difetto dicono maestri questo è il tipo di timore giusto di avere timore di non dare troppo ci sta perché è un timore di rispetto verso Dio però attenzione non deve diventare un timore malsano che io mi chiudo in me stesso e non ho più coraggio nei miei doti in me stesso deve essere un punto importante da ricordarsi sempre che Dio ti ama tanto e devi essere all'altezza però come ogni momento dobbiamo ricordare la grandezza di quanto noi siamo di quanto noi valiamo e Dio dice non devi preoccuparti perché chi ha paura scivola in basso cade invece quando noi capiamo quanto Hashem ci ha ma nonostante tutto ciò dobbiamo sentirci all'altezza che io quest'anno potrò meglio dell'anno prima dimostrare quanto anch'io amo Dio e quanto io capisco e sono conscio dell'amore che lui ha adesso uno può dire bellissime parole mi hai scaldato il cuore ho capito cosa vuol dire timore per Hashem non è la paura ma la paura di rovinare e così via però però rimane sempre che dopo tutto Rosh Hashanah è il giorno del giudizio non possiamo dire di no non possiamo dire che è un giorno che andiamo in campagna a festeggiare è un giorno del giudizio che come ho spiegato prima tutti passiamo davanti a Dio e Dio giudica e non nelle preghiere cosa diciamo un tanetok è questa preghiera che a volte sgorgano lacrime mentre le diciamo e diciamo che Hashem decide chi quest'anno vivrà o chi quest'anno dovrà lasciare questo mondo fisico chi quest'anno avrà la salute chi non avrà chi avrà sostentamento chi avrà di meno tutto quello che è concernente la nostra vita fisica viene deciso i giorni di Rosh Hashanah perciò una persona può dire va bene è vero è un giorno che Hashem ci ama eccetera però dopo tutto è un giorno del giudizio e chiunque quando va davanti a un tribunale ha un po' di angoscia ha un po' di timore figuriamoci davanti al tribunale celeste che conoscono tutta la realtà dei nostri fatti non soltanto delle persone che magari può ingannare un giudice carne e ossa magari può ingannare o lui può sbagliare ma Dio gli angeli sicuramente non li possiamo ingannare perciò a volte noi ci sentiamo che appunto il giorno di Rosh Hashanah è un giorno molto serio e ci fa paura perciò andiamo adesso a capire cos'è il concetto del giudizio ma non il giudizio che noi sempre abbiamo pensato ma il giudizio dall'ottica chassidica e di noi impareremo un qualcosa che finora magari non pensavamo mai che fosse in questi termini di norma nessuno ama essere giudicato no perché io quando faccio qualcosa di sbagliato e tu mi vieni a giudicare mi dai fastidio nessuna persona gli piace essere giudicato voglio fare quello che mi va voglio fare il comodo mio se trovo giusto lo faccio se non trovo giusto non lo faccio non voglio che tu mi venga a dire hai sbagliato non hai sbagliato nessuno i giudizi non piacciono mai a nessuno adesso in realtà quello che stasera studieremo è totalmente un'altra facciata di come vedere un giudizio in realtà giudicare vuol dire quando tu vai da una persona per esempio che ti guarda in introspezione e guarda dentro di te e questa persona comincia a raccontarti tutti i tuoi pregi guarda che tu sei una persona del genere sei bravo in questo sei buono in quello tutte le cose più belle che tu hai che a volte tu stesso non sai di avere queste doti nascoste perché come ripetiamo sempre noi purtroppo abbiamo sempre mancanza di stima interiore per noi stessi allora molte volte noi abbiamo tante belle doti che noi non conosciamo neanche da avere arriva una persona e comincia a dirci guarda che io ti ho guardato tu sei così sei così e comincia a dirci delle bellissime cose che tra l'altro magari neanche noi appunto conoscevamo di avere poi questa stessa cosa questa stessa persona comincia a raccontarci anche i nostri difetti le nostre mancanze le nostre paure le nostre angosce e ci fa un quadro generale di tutto quello che noi siamo le cose buone ma anche le nostre mancanze le difficoltà e così via i traumi quante persone sono cresciuti con dei traumi da quando erano bambini che si portano indietro e oggi il loro comportamento sbagliato magari è dovuto a un trauma non a se stesse ma a un trauma del passato che noi molte volte questi traumi cosa facciamo? la psiche umana è sempre in difesa quando la psiche vede un trauma un difetto una mancanza cosa fa? lo vuole respingere perché non vuole affrontare la verità il cervello preferisce mettersi in comfort zone mettersi in difesa e dimenticare schivare non focalizzare sui difetti che noi abbiamo questo è uno dei difetti umani i maestri dicono che le persone amano se stessi a tal punto che non vedono siamo ciechi verso noi stessi arriva una persona e ti fa un'analisi di ogni molecola del tuo corpo delle parti positive e delle parti negative e ti mette davanti a te e dice guarda questo è quello che tu sei cosa succede? che noi finalmente abbiamo acquisiamo una coscienza di una verità nostra totalmente oscura ai nostri altri che non conoscevamo prima d'ora sia nel bene sia nel male allora quando una persona viene giudicata in questi termini ma non che il giudizio è un giudizio negativo distruttivo no stiamo parlando di qualcuno che ti fa un monitoraggio non dice né A né B ti fa vedere quello che tu sei e tu vedi la realtà di quello che tu sei allora chi meglio di questo cosa di meglio c'è di questo di essere giudicati in questo modo vuol dire non è un giudizio che io ti dico hai fatto sbagliato ti faccio vedere quello che sei non esprimo una mia idea racconto quello che tu sei ti faccio vedere un filmato di quello che tu sei adesso questo è quello che ci succede a Rosh Hashanah Dashem chi meglio di Dio conosce tutto quello che abbiamo raccontato conosce i nostri punti forti i nostri punti deboli dove possiamo migliorare dove dobbiamo recedere chi meglio di Dio è il nostro creatore può giudicarci perciò quando Dio ci giudica attenzione non è un giudizio per metterci in castigo ma è un giudizio per aiutarci ad andare in introspezione è un giudizio che Dio dice guarda tu hai tante buone cose hai anche tanti problemi che devi mettere a posto perciò il giorno del giudizio è il giorno che ci sprona a migliorare la nostra condotta la nostra vita l'unica paura che noi dobbiamo avere del giudizio è sono due una è se io vengo giudicato da qualcuno che non mi conosce o se vengo giudicato da qualcuno che non interessa del mio bene perché quando una persona va al tribunale ha paura perché il giudice non lo conosce non sa la sua storia non sa perché lui ha fatto quello che ha fatto magari lui veramente ha commesso un reato ma il giudice non sa perché l'ha fatto non lo conosce il giudice non interessa della sua vita vuole soltanto fare il suo lavoro andare a casa ecco tutto questo quando parliamo del giudizio di Hashem verso di noi ovviamente non c'è perché Hashem conosce esattamente tutte le nostre difficoltà conosce la nostra storia conosce la nostra natura conosce il nostro passato conosce il perché noi oggi siamo qui e facciamo quello che facciamo e nonostante tutto ciò l'amore di Dio rimane sempre incondizionato infinito verso noi nonostante tutto quello che lui vede Dio non lo inganniamo noi possiamo ingannare noi stessi ma non possiamo ingannare Dio nonostante tutto ciò Dio ci ama perché? perché lui ci ha creati lui ci conosce lui capisce meglio di noi quello che noi siamo noi pensiamo di capire ah io questo quest'altro soffro per questo motivo ho ricevuto questo siamo tutti bravi a piangerci addosso ma non ne avremo mai a livello di autoconoscenza quanto Dio conosce noi quanto noi pensiamo di conoscere noi stessi Dio ci conosce molto meglio perciò lui è il vero difensore di ognuno di noi è Dio perché lui conosce veramente la nostra storia e quando noi sbagliamo Dio sa perché sbagliamo perché a volte è lui che ci ha messo in questa condizione di sofferenza che ci porta a fare degli sbagli perciò qua quando si parla di giudizio di Hashem non deve essere un giudizio che ci fa tremare che ci fa paura ma al contrario deve essere un giudizio che io so che una volta finito questo giudizio Hashem non vuole picchiarmi o punirmi o mettermi in prigione al contrario una volta fatto tutto la scansione di ogni molecola della mia vita Dio con l'anno nuovo cosa dà? nuove benedizioni perciò dopo il giudizio di Hashem cosa avviene? la forza l'input nuovo anno nuovo vita nuova pagina nuova luce nuova brachà benedizione nuova perché Dio ci dà le nuove potenzialità per potere mettere a posto tutto quello che abbiamo appena visto di noi stessi Dio ci fa un laser ci fa delle lastre no? ci dà le lastre in mano ci fa vedere tutti i punti negativi e ti dice quest'anno ti do una brachà una benedizione che tu possa veramente prenderti in mano avere coraggio di te stesso amore di te stesso per mettere a punto tutti questi punti rossi che ti ho insegnato vai questi sono i compiti per quest'anno questo è il giudizio di Dio questo è che la brachà che Dio ci dà è per capire quanto veramente Dio ci ama e ci dà una spinta e ci incoraggia a migliorare lo Zohar scrive una cosa molto particolare molto strana come linguaggio ma un mascial un esempio fantastico e dice se noi sapessimo quanto Dio ci ama noi cosa faremmo? correremmo verso Dio più veloce di quanto un leone corre verso la sua preda un leone affamato quando vede una preda cosa fa? va velocissimo perché vuole azzannare la preda se noi avessimo la minima idea di quanto Dio ci ama noi correremmo verso Dio a fare la sua volontà più veloce di questo leone che corre dietro all'agnello questa è una parabola fantastica che lo Zohar ci vuole spiegare perciò questo è il modo cari amici che noi dobbiamo vivere questi giorni di Rosh Hashanah e Kippur vedere questo giorno il giudizio non con la paura ma con l'idea che Dio sicuramente che conosce tutto quello che è le mie dibolezze lui non cerca di punirmi ecco questo è un altro punto Dio non ci ha messo al mondo e non ci ha dato anche è Dio che ci ha messo delle difficoltà se io ho c'è una persona tendente a fare qualcosa di male questa tendenza è Dio che gliel'ha messa dentro è vero la persona deve bloccarsi deve che lui si sente di fare è vero siamo qua per migliorarci sicuro però chi ci ha messo questa dose di 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 male dentro di noi ce l'ha messa Dio ripeto questo che sto dicendo stasera da che non sia per nessuno di noi anche un modo di dire ah va bene se è così sto tranquillo continuo a fare la mia vita no ricordiamoci per quanto è vero che Dio ci ama che Dio ci sprona a migliorare ma non devono queste parole essere ai nostri occhi leggere come per dire va bene allora non è così grave come pensavo no un conto essere ottimisti capire la verità di Dio che Ascemno appunto non vuole a tutti i costi e punirci è un conto dire vabbè allora se è così facile continua a essere quello che sono no voglio che queste parole che sono così dolci non vengano usufruite da nessuno di noi per dire allora continua a fare quello che voglio tanto Dio mi perdona tanto Dio mi perdona sarà lui a deciderlo ma non per colpa mia di pensare che sto alleggerendo troppo la situazione adesso il punto è che Dio ci ha messi in questo mondo e capisce e non cerca col binocolo con la lente di ingrandimento ah tu hai fatto questo ti punisco al contrario Dio vuole darci la possibilità di capire gli sbagli e di metterci a posto noi dobbiamo avere fiducia in noi stessi se noi avessimo la fiducia che Dio ha verso di noi in noi stessi noi non cadremo a volte così in basso a fare dei sbagli così gravi ricordiamoci che cari amici noi siamo discendenti di persone nella storia che hanno dato la loro vita per la Torah la loro vita per Dio Abramo per esempio senza arrivare alla seconda guerra mondiale ma nella storia i giganti Rabbi Akiva tutti questi giganti che sono morti per santificare il nome di Dio non dimentichiamo che noi siamo i loro figli i loro discendenti la loro anima vive dentro di noi se una persona si vede sempre un perdente un peccatore un buon a nulla è sbagliato è da un'offesa a Dio che ci ha creato se tu vedete il senso sempre in un modo negativo stai offendendo Dio vuol dire che Dio ha creato una creatura sbagliata e non è così stai offendendo i tuoi abbi Abramo Isacco Giacobbe Arabi Akiva che sono morti per Dio invece noi dobbiamo capire che noi abbiamo la loro forza perché loro vivono dentro di noi è vero esteriormente sbagliamo ma dentro dentro siamo un fuoco di amore per Dio dentro siamo un'anima pura e candida che conosce soltanto l'amore per Hashem le mani peccano il corpo pecca la testa pecca quei pensieri ma dentro di noi l'anima non pecca mai l'anima è una parte di Dio l'anima rimane sempre pura e candida perciò ricordiamoci una cosa molto importante non bisogna mai sentirsi in colpa l'ho detto anche nelle ultime lezioni e lo ripeterò per sempre una persona che si sente in colpa non riuscirà mai a fare una teshuva completa è vero può essere l'inizio che può innescare l'idea ho sbagliato mi sento in colpa e vado verso Dio può essere soltanto il primo trampolino ma se tutta una vita una persona si sente in colpa per aver fatto qualcosa di male lui non riuscirà mai a uscirne da questi pensieri qua e se tu continui a sentirti male di rimorso coscienza di rimorso non potrai mai fare teshuva perché non potrai mai decollare quando sei ancorato nel tuo passato l'anno nuovo porta una una ventata nuova di vita nuova all'inizio ti senti in colpa però poi basta devi dire io ho fatto teshuva su questo peccato ho promesso a me stesso che non lo farò più e non devo più sentirmi i sensi di rimorsi per una cosa che ho sbagliato una volta perciò cari amici questo Rosh Hashanah prendiamo tempo abbiamo due giorni interi di tempo sabato e domenica abbiamo 48 ore magiche dove tutti noi possiamo veramente andare in introspezione pensare a questa lezione di stasera e capire quanto Hashem in realtà ci è vicini e non ci è lontani non ci è contro di noi ma al contrario ci vuole amare abbiamo due giorni per capire quanto in realtà noi valiamo e quanto noi dobbiamo usufruire di tutte le doti che Hashem ci ha dato ricordiamoci non è mai tardi per tornare ad Hashem non è mai tardi per mettere a posto il nostro passato è vero tutti sbagliamo chi più chi meno chi più grave chi meno grave ma quando una persona vuole uscire da questo pozzo che si è creato allora riuscirà ad uscire ma se una persona rimane nel suo pozzo e non vuole uscire perché lui si sente male con se stesso e pensa che non avrà mai una via di uscita allora se tu non vuoi salvarti nessuno ti potrà salvare ma quando tu allunghi la mano per essere salvato allora si che Hashem verrà a salvarti a volte noi abbiamo da bambini veniamo turbati psicologicamente ognuno ha la sua storia abbiamo difficoltà ognuno ha una crescita diversa a volte però è sempre molto amare e difficile ecco questa amarezza che noi abbiamo avuto da bambini o in mezzo alla vita ognuno con la sua storia deve essere in realtà un trampolino per dire questa difficoltà mi deve aiutare a diventare più forte mi deve mettere in piedi devo diventare da questo male io potrò tirare fuori un bene molto più grande perciò vorrei concludere con una storia che ho ripetuto decine e decine di volte in diverse occasioni qui o in altri posti e abbiamo detto prima quando una persona si trova in difficoltà non deve continuare a rimanere in questo pozzo e sentirsi affogato deve uscire da questo pozzo e la storia l'aneddoto fa così c'era questa persona la facciamo molto breve c'era questa persona che lui aveva affittato una locanda dove lui vendeva abitava lì dentro e poi vendeva come un bar di una volta e lui non pagava mai l'affitto alla fine il padrone di casa viene e dice entro domani se non paghi tutti questi 5 anni di affitto prendo e ti metto in prigione finché paghi l'affitto l'indomani i soldi non ci sono lui va prende questa coppia marito e moglie e li mette in prigione all'epoca c'erano queste botole sotto terra chiude a chiave e dice quando avrete i soldi vi libererò ogni giorno andava lì apriva lasciava un po' di acqua un po' di pane per non farli morire e così la storia andava avanti loro è un aneddoto mi raccomando loro lì giù vivono fanno dei figli fanno dei nipoti e hanno una vita in parallelo lì sotto sanno che ogni giorno si apre e viene giù la manna qualcuno porta un po' di acqua un po' di pane e loro vivono nel loro modo così passano gli anni passano gli anni addirittura i primi due ormai sono morti sono i figli i nipoti che sono nati in questa botola un bel giorno il bisnipote qualcuno viene lì e va a pagare questo riscatto va a prendere la chiave apre la botola e dice venite ho pagato il vostro riscatto siete liberi e questi dicono riscatto liberi si siete liberi uscite la prigione non è più per voi venite tornate a casa casa questa è casa nostra ma come è casa vostra venite fuori guardate la bellezza del mondo c'è un cielo ci sono degli uccellini che ci inguettano c'è la bellezza dell'oceano del mare della natura i fiori cosa? ma lasciaci stare noi siamo qui questa è casa nostra dove vuoi portarci? anzi chiudi questa questa porta perché questo sole ci dà fastidio agli occhi questa luce chiudi vai via lasciaci stare in pace guardate la tristezza di questa storia che queste persone che sono immerse nella loro disgrazia anche quando qualcuno viene a liberarli dicendogli venitevi vi aiuto a liberarvi loro non vogliono neanche mettere la testa fuori dalla botola per vedere cosa sono queste cose che lui ha elencato non hanno mai visto e non vogliono neanche vedere ecco a volte noi cari amici ognuno di noi a volte fa questo stesso sbaglio a volte cadiamo in una botola anzi ci mettiamo in prigione ci mettiamo in una botola in una situazione stretta ci sentiamo soffocati ci sentiamo che siamo sprofondati nel fango che non possiamo più uscire non crediamo più noi stesso noi non crediamo più neanche in un futuro migliore addirittura quando vengono e ci dicono vieni ti libero ti salvo ti aiuto cosa facciamo noi non vogliamo sentire perché non riusciamo neanche a credere che riusciamo ad uscire dai nostri problemi arriva a Rosh Hashanah 5.781 e Dio ci dice quando io ti tiro la mano ti porgo la mano non fare lo stupido dammi la mano perché io ti voglio salvare questo deve essere il motto di quest'anno Hashem è lì sempre che ci porge la mano e noi non dobbiamo aver paura di dire ok mi faccio salvare ok esco dalle mie limitazioni esco dai miei film mentali non è così grave come io penso sentirsi salvati perché noi a volte ci facciamo delle dei pensieri che qui so cosa ho questa prigione la conosco nei minimi dettagli chissà uscire cosa sarà forse sarà peggio invece non capiamo che uscire da questa prigione che ci siamo inventati sarà soltanto meglio perciò quest'anno lasciamoci trascinare con la forza della Torah con l'amore che Hashem ci dà è l'amore che ognuno di noi deve riconoscere in se stesso per se stesso e per Hashem ci deve aiutare ad avere un anno meraviglioso e auguro a tutti noi di avere un anno pieno di bendizioni di salute di sostentamento che ognuno di noi possa ricevere quello che il suo cuore desidera se è una cosa buona che deve succedere pregheremo e succederà se non succederà forse non è veramente quel buono che noi pensiamo che Hashem ci possa dare un bene che è soltanto un bene rivelato e non un bene che possa nascondere qualcosa di male e Bezat Hashem il bene migliore che noi vogliamo che cos'è? La venuta di Masciach Zirkenu insieme col terzo santuario Bimerabe Ameno Amen Shana Tova tutti ricordiamo domenica di andare a sentire lo shofar Shabbat non si suona lo shofar domenica sì andare al tempio e sentire lo shofar Shabbat Shalom a tutti e Shana Tova Om Etukah Shabbat 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 Shabbat